...dai ministro per la posizione 5 anni. Il governo discuterà anche delle proposte avanzate per premio del segretario di Cicillata Cisdorveglia per definire un'uomo e più streggente sulla sua sicurezza nel luogo di lavoro e per fare le scelte del risultato delle impasse con la ripresa del senacato di una riduzione del paese dei bambini per i bambini e per la possibilità che si avvergiano e per la anticipazione dei costi. ...disco che sarebbe un fatto molto importante perché dovrebbe dimendere il governo che le imprese tutte...